Davvero particolare è l'avvenimento inerente all'assassinio del carabiniere a Roma a poca distanza temporale dai fatti di Bibiano sugli affidi dei minori, che ha distolto l'attenzione dei media ponendo in secondo piano le problematiche precedenti. Non entro nel merito dell'analisi cabalistica e numerologica della vicenda, perché altri hanno già provveduto in merito con dovizie di particolari. L'episodio nasconde palesemente zone d'ombra e lati oscuri. Sin dall'inizio il modo in cui è stato trattato dagli organi di informazione ha evidenziato la probabile matrice massonica. Sommariamente possiamo notare le classiche simbologie tipiche peraltro velatamente evidenziate sul sito ufficiale dell'arma, a partire dal numero 43, che compare spesso nei fatti di cronaca e generalmente legato al numero delle vittime, l'11 che rappresenta le colonne del Tempio, il 13 la morte, il 7 la massoneria, l'8 la giustizia ecc. In particolare il 43 associato nella smorfia napoletana alla pettegola, cioè a colei, colui che si interessa dei fatti altrui. Nonostante questo dettaglio non credo si sia trattato di una rivalsa personale sul militare, ma di un vero e proprio rituale esoterico, con un rilascio di messaggi occulti, supportato anche dal fatto che il carabiniere e la sua compagna, guarda a caso dal nome Maria Rosa, richiamanti Rosa Croce, pare risultino affiliati all'ordine dei cavalieri di Malta. Le iniziali del cognome stesso, CR, ribaltate, danno RC, che anch'esse richiamano l'ordine dei Rosa Croce. Trovo una certa relazione di questo episodio con altri similari passati, in particolare con quello avvenuto qualche anno fa inerente alla morte sospeta del carabiniere Luis Miguel Chiasso, che aveva avuto modo di analizzare all'epoca dei fatti, anch'esso affiliato a una loggia massonica. Al funerale del carabiniere parteciparono una gran quantità di militari, numero addirittura superiore alle persone borghesi, particolare che faceva trappelare più che a una partecipazione spontanea dei colleghi a una forzatura, a una imposizione, un ordine, volto appunto a dare forza all'ennesimo rituale massonico. Come allora, quando avevo associato le iniziali della vittima con una sigla in campo medico, che avvaloravano la tesi di un rituale, anche in questo caso ho provveduto a fare la stessa analisi con le iniziali del vicebrigadiere Mario Cercello Rega, quindi MCR. Guarda caso, anche questa volta ho trovato un'associazione con la sigla MCR che corrisponde a un gene di un batterio dalle caratteristiche davvero particolari. Si legge infatti, tra le altre specifiche, che il batterio resiste agli antibiotici, terrorizza gli scienziati, si sta diffondendo velocemente in tutto il mondo. L'antibiotico, che era rimasta l'unica arma a disposizione dopo che la diffusione globale di batteri molti resistenti sta rendendo inutili gran parte degli antibiotici normalmente in uso, eccetera, eccetera. Ora, se associate sostituendo gli termini medici con quelli politici, avrete un quadro più esaustivo. Altra considerazione. Come mai inizialmente si è parlato di due magrebini per poi finire a indagare i due statunitensi che, al di là di una sospetta confessione, lasciano seri dubbi sul loro reale coinvolgimento? Quale soluzione migliore dietro l'accordo e la complicità dello stato alleato per eccellenza al fine di scagionare gli immigrati, evitando così reazioni popolari e proseguendo indisturbati nell'azione di destabilizzazione e disintegrazione del Paese? L'episodio è comunque servito ad aggiungere un tassello al raggiungimento del totalitarismo assoluto, ormai incalzante. L'annunciata introduzione a partire dal 5 settembre prossimo del taser in dotazione alle forze di polizia, arma disumana in mano alla psicopolizia, uno strumento dell'attuale Ministero dell'Interno, Fantocio, che finirà per essere usato, come al solito, indiscriminatamente. E come solito essere, naturalmente. Azione, reazione e soluzione è una tecnica ormai consolidata che funziona sempre nei confronti del popolino inebetito. Una cosa è certa, la base delle forze di polizia è composta da inconsapevoli e incoscienti vittime sacrificabili sfruttate quando servono e trascurate o addirittura eliminate quando così appropriato per le mire del sistema elitario. Il rischio è trasformarlo in tanti agenti Daniele Contucci. Non c'è poi da meravigliarsi se i casi di suicidio all'interno della forza dell'ordine è in costante aumento. Che serva di lezione alla massa di bipedi diversamente pensanti e dormienti. Come sempre, auguri e continuate pure a dormire sonni profondi fino a quando l'incubo diverrà realtà.